Avril e Mila sono due amiche per la pelle che adorano punzecchiarsi tra una passeggiata e l'altra in un mondo post-apocalittico senza alcun futuro. La Terra è stata quasi interamente distrutta da una misteriosa e sconosciuta calamità e i pochi sopravvissuti hanno ormai fatto pace con l'oscurità che ha rabugliato i cieli del pianeta. Così si apre Batora Lost Heaven dell'italianissima Storm Mind Games, gioco di ruolo d'azione con visuale isometrica piacevolmente impreziosito da meravigliosi elementi da puzzle game. Il titolo già disponibile per PC e PlayStation e Xbox dal 20 ottobre arriva finalmente a fare la sua comparsa anche su Nintendo Switch, piattaforma assolutamente eccezionale per poter godere delle avventure della simpaticissima Avril. Questa nuova edizione porta con sé anche diverse migliorie al sistema di combattimento, la possibilità di selezionare differenti livelli di difficoltà e alcuni bilanciamenti generali all'esperienza del gioco. Il gioco compare sul nostro schermo nella forma di un colorato action 3D ma la natura sfaccettata di Batora Lost Heaven non è immediatamente manifesta e vi richiederà almeno di provarlo per poter dire di averla compresa un po' più a fondo. Se in prima battuta il titolo potrebbe illudere e presentarsi come un action RPG vagamente simile a Diablo, diciamo terzo capitolo o Diablo Immortal, dopo un paio delle circa 10 ore necessarie al completamento della prima run vi renderete conto che Batora è capace di brillare di gran lunga maggiormente come puzzle game e visual novel che come action, elementi che però appaiono magicamente ben amalgamati sia con l'ossatura della narrazione che con la struttura del divertentissimo combat system che riesce a trasformare ogni scontro in un puzzle più che in una battaglia dai tratti canonici. I ragazzi di Stormwind Games, già sviluppatori degli horror Remathered Tormented Fathers e Remathered Broken Porcelain, si spogliano delle vesti di programmatori ed entrano in quelle di maghi, arrivando a confezionare un titolo sfumato e di buon pregio connotato da grande semplicità, caratteristica che ne permea ogni piccola fessura e che abbiamo sinceramente apprezzato moltissimo. Non crediamo infatti che la complessità debba essere ricercata in un titolo come questo, ben più vicino a una favola che ha un cruento hack and slash dal ritmo serrato. Batora Lost Heaven vuole raccontarci qualcosa di semplice ma non di meno ugualmente importante. Ce lo vogliono far capire i personaggi e le vicende che ne popolano l'universo, ma soprattutto i suoi sviluppatori e la scrittice Annika Morris, i cui romanzi fantasy per ragazzi Batora il risveglio e Batora il marchio di terra hanno ispirato il gioco. La natura è il tutto e noi siamo parte di essa, nel bene o nel male. Le vicende del titolo di Stormwind Games si snodano in maniera piacevole lungo una manciata di missioni ambientate in quattro mondi diversi e sono raccontate brillantemente grazie ai frequenti dialoghi tra Avil e Mila, sempre freschi, concisi e mai scontati, spesso anche assolutamente divertenti, senza mai scadere nell'eccesso o magari risultare stucchevoli. Ciò che però completa decisamente il mosaico è la presenza di dialoghi con risposte a scelta multipla, la cui scelta andrà a modificare il vostro rapporto con gli attori delle vicende. Grazie alla presenza in gioco di un basilare sistema di allineamento potremo quindi influenzare alcune sezioni narrative, ma anche lo sviluppo stesso del personaggio, dando modo ad Avril di sfruttare differenti abilità equipaggiabili in base al tipo di esperienza derivata dalle scelte compiute nella storia. In realtà la sfortuna vuole che questa componente di gioco non sia così riuscita e profonda come potrebbe sembrare inizialmente e le scelte non comporteranno cambiamenti drastici all'interno della vicenda, anche se lo faranno abbastanza da farvi venire voglia di tentare almeno una nuova run in modalità New Game Plus. Se sotto un profilo narrativo il sistema di allineamento finisce per zoppicare, parlando di progressione delle statistiche e delle abilità arriva a funzionare decisamente meglio e se la cava benone risultato semplice ma efficace. In base alle nostre azioni potremo infatti sbloccare punti corrispondenti a uno dei tre allineamenti e sfruttare alcuni potenziamenti dedicati chiamati rune ottenibili in combattimento o acquistabili da mercanti in cambio di risorse di vario genere raccolte durante le missioni. Se inizialmente il gioco potrà sembrare lento e in generale la più grossa criticità che abbiamo riscontrato nel titolo è proprio l'assenza di un ritmo ben bilanciato, procedendo nella storia e potenziando Avril tutto diventerà più bello e combattere sarà sempre più divertente e più soddisfacente. Non aspettatevi però un vero gioco di ruolo, Batora ne gratta via solamente la vernice più esterna e sebbene in alcuni casi potreste trovarvi a ragionare di strategia per affrontare qualche scontro, raramente la costruzione del personaggio avrà un impatto determinante per la vittoria. Sarà infatti tutta questione di abilità nel concatenare gli attacchi speciali di Avril e gli sviluppatori hanno puntato praticamente tutto su questo. Possiamo quindi tranquillamente affermare che narrazione a parte, Batora Lost Heaven sa essere a tratti anche un videogioco frenetico e i relativamente frequenti combattimenti metteranno alla prova le vostre dita per poter dimostrare ai nemici la superiorità in battaglia. Avril picchierà duro e lo farà grazie a uno stile di combattimento duale lievemente tecnico, suddiviso tra benedizione fisica e benedizione mentale, abilità di guerra che dovremo continuamente alternare durante gli scontri derivate dal potere dei medaglioni di sole e luna. A entrambi gli stati di benedizione corrispondono differenti abilità d'attacco utilizzabili in combattimento in qualsiasi momento, al netto di alcuni cooldown da rispettare, quindi dovremo essere abbastanza cauti e giocare d'astuzia attendendo il momento giusto per sfruttare ogni potere. I nemici infatti non saranno pochi e il più delle volte sarà utile attendere che facciano la comparsa i più grandi prima di consumare un'abilità utile. Il medesimo discorso vale per gli scontri con i boss, dove sarà decisivo infliggere più danni possibili all'interno di una finestra di stordimento per evitare che questi recuperino parte della loro vita. Vatora Losthaven però non vuole farvi crollare in un bagno di sudore, quindi tenderà anche a rilassarvi, soprattutto durante le riuscitissime fasi puzzle. In diversi momenti della storia infatti Avril verrà catapultata all'interno di misteriosi dungeon in cui, per farsi strada, dovrà interagire con elementi dell'ambiente come pedane e piedistalli e ancora una volta il sistema delle benedizioni tornerà a giocare un ruolo fondamentale. I puzzle non saranno pochi e qualche volta vi daranno anche del filo da torcere. Stiamo ovviamente parlando di un titolo Switch e non possiamo nasconderci dietro un dito. Se si cerca un'esperienza molto più definita e fluida in termini grafici, Vatora Losthaven è senza ombra di dubbio ben più godibile su PC o console next-gen. Il valore aggiunto di giocarlo sulla console ibrida deriva infatti, come nella maggior parte dei casi, dalla natura portatile del giocattolino Nintendo. Se dovessimo scegliere dove giocare il titolo di Stormwind Games, con buona pace, sceglieremo comunque di acquistarlo per Switch, perché è il tipico gioco che funziona alla grande importabilità grazie al suo approccio diretto e rilassato. Vero, questa versione di gran lunga meno definita presenta spesso visibili caricamenti di texture e un effetto aliasing discretamente pronunciato, però scorre liscia senza perdere colpi e rimane fluida comportandosi egregiamente nonostante gli evidenti limiti della console. Vatora Losthaven, insomma, è una leggera avventura fantasy arricchita da un fresco combat system ai limiti di un puzzle da ritmo serrato. VATITO 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 VATITO